segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te questa vedete dremonti questa foto questo è il pnr lei l'ha calcolato 23 centimetri altissimo sono tanti volumi come si vede scritti in italiano in inglese in matematica fondamentalmente è illegibile cioè uno normale ha difficoltà a capire una roba così e poi si sviluppa su tre livelli quello europeo quello nazionale e quello regionale o locale e le grandi difficoltà sono state primo l'inflazione quando è stato fatto l'italia ha avuto un enorme successo nell'avere il piano nel suo importo è stato un grande successo ed è innegabile poi però è venuta l'inflazione e l'inflazione sul carrello della spesa ti fa un effetto bestiale ma nei contratti della pubblica amministrazione li blocca perché devi rifarli devi fare la revisione quando hai l'inflazione al 2 3 non lo so dura se ce l'hai così forte e quando doveva essere attuato era altissima l'inflazione hai un effetto di blocco bestiale e l'altro punto ai governi locali l'italia da 20 anni più o meno non spende i suoi soldi li manda a bruxelles vengono alle regioni del meridione e ne spendono più o meno la metà se va bene la fondi europei perché arrivano dall'europa vengono restituiti a bruxelles che li dà agli altri paesi che invece li prendono e le spendono il piano moltiplica i limiti i problemi della spesa dei fondi pubblici nella meridione d'italia dove ce n'è più bisogno è più complicato spendere lei ha detto che questo governo oggi deve dimostrare capacità amministrativa no e come può farlo alla luce dei nostri problemi strutturali è un grande problema devo dire secondo me il ministro fitto è la persona giusta perché ha una grande esperienza amministrativa ha una grande esperienza europea quindi è la persona secondo me adatta a gestire il piano è comunque un mestiere difficilissimo per tanti paesi è difficile e per inciso una parte dei soldi a fondo prodotto cara grazia come si dice la parte a debito devi stare attento perché ammesso che tu li spenda devi avere un ritorno allora se li spendi per l'eolico se li spendi su investimenti che ritornano ottimo ma se li spendi per fare che so le aiuole di un posto di un paese lo rendi più bello ma resta il debito non so se le aiuole inventate in questo modo restano ma sicuramente resta il debito e quello vale un moltiplicatore diciamo di un qualche modo e quindi ammesso che sia facile spendere e paradosso anche difficile spendere ma spendere su cose che restano e ritornano e che si ripagano è ancora più difficile se tu i soldi li butti via come in molti posti viene fatto c'è il rischio che sia fatto beh quello è un danno non per chi governa adesso ma per il paese e il futuro e giulia serlega deve